ciao oggi ti parlo di caldaia junkers o bosch errore a questo è l'errore il display lampeggia un po quindi non si vede bene però è sicuro che non ha ok in questo caso faccio un test prima e dopo ecco questo qui indicato con la freccia verde è la temperatura dimandata dell'acqua 68 gradi quindi calore che sprigiona la caldaia e questa invece l'acqua in uscita sanitaria quella che va diciamo nei nostri rubinetti che è 46 gradi questa a destra vabbè questo è il ritorno del riscaldamento per ora non ci interessa ora questa situazione qui questo errore qui rileva una differenza elevata tra la mandata e il sanitario e quindi va cambiato lo scambiatore secondario se guardi nelle descrizioni c'è anche il link per vedere come si smonta in questo caso l'ho già smontato quello là il pezzo usato e questo nuovo questo è uno scambiatore molto grande a 20 piastre ed ecco qui ho fatto il test dopo guardare differenza ecco sono le due temperature allora ti faccio vedere questa qui a 41 gradi è quella della mandata che prima era 68 gradi e questa qui 35 a 37 gradi e l'acqua sanitaria quindi vedi che in effetti adesso ne produce 41 e ne escono 37 quasi paritario quindi ottimale invece prima doveva diciamo farne 76 circa per avere più o meno lo stesso risultato ciao alla prossima